Musica Carissimi amici ben ritrovati, siamo all'ottava tappa di Per Presepi e siamo a Quero in compagnia di Nicola Dallapiazza che è il rappresentante del gruppo Ministri del Presepi. Nicola intanto presenteci i tuoi compagni di avventura e poi dacci un po' di notizie su questo presepi. Allora qui accanto a me abbiamo due dei rappresentanti del gruppo dei presepi, abbiamo Giada Gasperin e Mattia Dallapiazza. Quest'anno abbiamo cambiato location, non è più dove era l'anno scorso ma è adiecente alla chiesa, è sotto l'asilo parocchiale. Abbiamo costruito questo presepio in questo posto per poter dare più spazio alla gente quando viene a fare il giro per visitare. Noi come gruppo del presepio abbiamo festeggiato quest'anno i 10 anni di realizzazione da parte nostra. Prima c'era il gruppo di alpini che all'epoca lo facevano in chiesa. Allora gli orari sono fino all'8 di gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e 30, dall'8 gennaio i pomeriggi feriali dalle 15 alle 18, i sabati e le domeniche sempre dopo l'8 di gennaio dalle 14 alle 18 e 30. Per visitare il presepio c'è l'opportuna segnaletica, seguite le frecce, il presepio è situato sotto all'asilo dietro la chiesa parocchiale dove c'è il campo da calcio.